Musica Oggi si traggono quelli che sono i risultati di 365 giorni di business, la tua attività Walter Marini Personal Training che compie un anno ed entra nel secondo. Il primo anno positivo, aprire una struttura per me era un mio sogno, è diventata realtà la cosa, anche se loro mi seguivano sempre, noi siamo allenati al parco, al mare, ovunque, però avevo bisogno di dargli un centro di riferimento per stare insieme, come questa sera è una cosa bellissima, mi ripaga tutto questo. Musica Ma che cosa significa per te far vedere loro, far tornare a loro il sorriso dal punto di vista professionale? Allora, loro vengono qui sì per allenarsi, però noi lo facciamo pure per un obiettivo e quando raggiungi l'obiettivo ti diverti. Io dico sempre, se uno va a correre, non è che va a correre e ride, però quelle emozioni quando finisci una gara o quando puoi fare, facevi 5 km e ne fai 10, diventano delle gioie che non si possono quantificare. Musica Oggi, Walter Marini come professionista, cos'è? È perché ti scelgono? Tu che cosa rispondi? Guarda, io ci metto tanta passione, mia moglie mi ha sempre detto che io amo più i miei clienti o i miei atleti che la famiglia, ci ho venuto sempre questa diatriba, forse è vero, io amo il mio lavoro e amo i miei clienti. Musica Walter Marini da professionista, da allenatore diventa un amico, come amico com'è? Un amico formidabile, è un amico immenso, ha un cuore enorme e ti accoglie sempre, accoglie tutti a braccia aperte. Musica Risultato 100%, divertimento assicurato, sempre stimoli nuovi, sempre nuove sfide che mi fanno stare sempre attiva, carica, è una bella realtà. Musica Tu lo scegli e gli altri lo scelgono come personal trainer, quindi come persona di fiducia per ritornare in forma, perché? Perché è un grande professionista, persona seria, persona preparata, che quando ti affidi a lui i risultati alla fine li vedi e quindi è una persona che è veramente consigliato e consigliata. Musica Se ti vuoi realmente mettere in forma è il nome perfetto, è ideale per quello che vuoi fare. Musica Il mio obiettivo è formare altre persone e quindi voglio fare un po' da supervisor per una mia metodologia, un mio modo di pensare e adesso mi stanno accompagnando perché prima solo svolgevo la mia attività, sono in prima persona, adesso ho dei grandi collaboratori. Musica Delle volte io dico sempre, sono più bravi di me, non è una lezione singola, poi ho un'esperienza ventennale perché faccio questo lavoro da vent'anni, però loro in una seduta mi impressionano delle volte e quindi li voglio bene e secondo me arriviamo in alto. Musica Oggi Walter Mareni Personal Training è? Super! Perfetto Perfetto Semplicemente il migliore Un mito Un grande Un grande Molto professionale Un ottimo preparatore A 360 gradi prepara L'unanimità decide che Walter Mareni Personal Coach è il numero uno. Musica Chor Vanessa San Ust reciesso Abbiamo Giare la cal sorta di acquisto Oggi Un grande Corchan間 Un grande Giasno